È la grande ricchezza del Partito Democratico, tutti ci invidiano le vecchie sezioni, gli attuali circoli, noi dobbiamo continuare ad essere struttura portante del territorio, offrendo servizi alla popolazione, specie alle fasce più deboli, ed essere ancora una volta centro di riferimento per quanti hanno bisogno. Senza rinunciare ai nuovi strumenti, naturalmente i social, le pagine Facebook, eccetera, ma riconquistando quella che è stata da sempre la grande ricchezza del Partito Democratico. È per questo che questo circolo, giustamente, porta avanti questa iniziativa, si offre e si apre al territorio di Portanova, ma in generale di Pescara. Io sono convinto che questo sarà anche un modo per i tanti cittadini di Pescara di testare i nuovi amministratori, ed i nuovi amministratori sicuramente non usciranno anche da questo circolo. La finalità è di cominciare a sfondare le quattro mura della sezione, tornare fuori tra la gente. È un tentativo di stabilire regami forti con la nostra società. Si inserisce lungo questo nuovo progetto, nuovo percorso lanciato dal Partito Democratico, sia a livello nazionale e sia a livello regionale. A noi piace pensare che i circoli debbano ridefinirsi, declinare attraverso politiche di prossimità, e circoli utili è uno strumento, è un tentativo, sarà sperimentato qui nella sezione di Vittorio di Pescara e speriamo possa essere replicato in tutti i circoli della provincia di Pescara, ma anche della regione Abruzzo.